Giuseppe, una volta il finale è ripartito ai palloni, perde solo la Juventus, ma perde solo la Juventus. Giuseppe, una volta il telefono, per esempio, questo è il telefono che c'erano una volta. Che telefono? C'erano due nocchi. Non che 3310. Chiamano il telefono, perché non matto uno? No, veramente, il maccarotto è ritumato uno, non che non matto uno. Il telefono che stanno facendo molto. Quello, il iPhone 11 Pro, Max, Plus, Mix, Mox. Però è bella, ma che è bella. Rischi che non fanno resistenza, comunque. Sì, è vero. Il ramarocchio. Giuseppe, c'erano le rotte. Ma che cazzo? C'erano le rotte. Sì. Il telefono. Il telefono. Il telefono. Il telefono. Il telefono. Il telefono. Un telefono. Se lo so, aveva fatto una scuola. Non so, facevo scuola. Sì. Quindi lasciavo intendele che stavi pensando, ma è che delle spugni. Bella, bella, bella. L'altra sera hai fatto una scuola a mio germe. Ho mai chiamato tutti ingazzati perché stai facendo il telefono e le interrotte le fotografie. Sono scangiato le cose. Sono scangiato. Poi una volta, una volta, tu conoscivi una ragazza che aveva essere spesso tutte le otto volte. C'era la fase di corteggiamento, poi era il posto che frequentai, facevi vendendo. Invece il mondo passava su Facebook. Ma è vero, è vero, c'è su Facebook, devi vedere, poi c'è me, me, sore, zitta, se zoccolo, su nezzoccolo, vieni proprio i pizzi. Se mai negli anni, adesso c'è nel 2016, proprio l'albero genealogico. Eh, zitta, nella conferma si era bella. E i zitta, i zitta che aveva avuto. Ah, cap'è? Ora ne c'entrano per la miseria, ne c'entrano, zitta, quattro giorni. Ah, se c'entrano, 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 c'entrano. Ah, c'entrano. Ma poi c'entrano la musica, poi c'entrano di dimagrano, no, una volta. C'entrano di dimagrano, una volta, c'entrano di elaborato, c'entrano di segra, c'entrano di wait. C'entrano con me, Gaetano. Avevano per il corso. C'entrano subitendo, eh. Bum, 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 bum. E poi c'entrano bello, c'entrano. C'entrano, 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 c'entrano. E tu venirei a ascoltare la musica, c'entrano. Ma tu non l'hai visto grattare, non sa capire. Ma Gerasalem? Gerasalem. Non c'entrano, 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 c'entrano. C'entrano. Ma chiamatevi, ma ti metti, ma quale? Quei soldi che hai pensato sono diminuiti. Ma come? Invece è aumentato, sono diminuiti. C'entrano. Invece una volta trovermi l'interesse, c'entrano. vengono e quando trascinano i cimenti e cinque volte io ti chiamano il direttore sono cangiati l'atto è giro sul lungomato sul lungomato nei soliti le discoteche mettono i buttafuori vendigli ma mettono i butta dentro non sono cangiati e poi chi dà sandello chi dà sandello vuoi sapete perché ha chiuso la discoteca ha chiuso la discoteca però non dite niente però prima l'hai aperta e poi l'hai chiusa eh sì perché l'hai inventata a ballare la discoteca solo che lei non sa ballare adesso com'è mi ha detto più lì in me la discoteca non ci fa sempre prima l'ha aprita prima l'ha apro ci ha aprita cadete all'inizio aprite le discoteche però mantenete il distanziamento sociale alla discoteca ehi bella chi cadete ehi bella cadete ehi bella cadete su cangiati non ci capisci niente non ci mancano cuore su leone rosa marco no una volta era un po' più aggressivo ma è docile è docile ma perché un po' accadezzato non ti fa niente nemmeno l'acqua ma perché un po' ci manca l'acqua vabbè tutta l'estate non ti manca l'acqua però da quando l'ha accadezzata gianni morante una gatta c'è una gatta e invece che dava schiamare la catena oggi sei a vista poco poco fa una volta prima di mangiare poi mi facciamo i video prima di mangiare poi mi facciamo i video prima di mangiare i video poi mi facciamo i video su cangiare su cangiare su cangiare su cangiare